La casella numero 2 del calendario dell'avvento, chissà cosa ci sarà qui dentro, qui dentro c'è un prodottino, una cremina, eccola qua, magia liquida, adesso vi spiego tutto. Eccoci qui nella mia cucina, allora nella casellina numero 2 del calendario dell'avvento abbiamo trovato magia liquida, mia geliquida è una cremina effetto botox, ovvero è una crema un liquido, una volta aperto si mette tra il pollice e l'indice, lo si fa scaldare 4 volte così e lo si tampona, zampi di guerrina, occhiaie, borse, arco di cupido per le rughe mimipe, la ruga del corrugatore, dove voi avete una alla fronte eventualmente, dove avete delle righe, delle rughe che volete andare ad appianare, spianare, l'effetto botox, la quantità di tempo che dura questo effetto, che è un effetto immediato, che si ha dopo 120 secondi circa dall'applicazione, quindi in questi due minuti bisogna cercare di stare fermi, immobili col viso per avere un'ispezione neutra, perché poi si andrà a fissare e a seconda del tipo di pelle durerà dalle 6 alle 7 ore. Il problema, l'unico problema, se si può chiamare problema, è che dopo aver utilizzato questo prodotto non bisogna andare a bagnare il viso con acqua, ma non bisogna neanche andare ad applicare prodotti liquidi o prodotti cremosi, quindi attenzione che al maker potevi darvi per quella sera che volete sembrare molto più giovani, magari al di sopra se volete truccarvi, nelle zone solamente dove avete dato questo, perché questo è per queste zone di vision, anche dove potete spattaccare ovunque, anche perché bisogna dare uno stato molto sottile, finché non diventa praticamente trasparente, potete utilizzare una cipria minerale magari, un trucco minerale, anche sugli occhi magari usate una polvere, come blush ci sono le polveri, come fondotinta esistono le polveri, insomma per quella sera lì cercate di non applicare prodotti oleosi. So che alcuni infobioti lo stanno testando sopra il makeup, però vedremo anche perché trasparente non si vede, vi terrò aggiornate. Comunque vedetemi a seguire su Instagram, il mio profilo è scritto qui sotto nel box informazioni, perché lì vi do tante informazioni in più e salverò l'inci, salverò il prima o dopo, se riesco ve ne metto uno o due anche qui a fine video, in modo che insomma abbiate un po' di informazioni in più. So che tante ragazze non hanno Instagram male male male, iscrivetevi, potete entrare anche solo come pubblico diciamo, avere un profilo magari privato o nascosto o tenerlo anche vuoto e usarlo solo per venire a visionare le cose che mi interessano, come facevo io all'inizio con la scuola. Niente, questo è tutto ragazze e questo prodotto mi sembra, se ricordo bene, costi 29 euro, quindi un prezzo più accettabile per 15 ml di prodotto che ne basta veramente una quantità infinitesimale, quindi potete stare, vi dura tantissimo. provatelo. Ciao, mi raccomando, solite raccomandazioni, iscrivetevi, spollicciate, condividete, seguimi su Instagram, mi trovate anche su Facebook, ho scritto tutto qui sotto le vostre informazioni. Vi metto le fotine. A presto, ciao ciao! Grazie. 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 Grazie a tutti.